Ciao, buongiorno, io sono Giovanni, anche conosciuto come Giovanni Cripto su Twitter, se seguo il mio canale Twitter in italiano. E oggi mi sono svegliato una notizia incredibile che viene dagli Stati Uniti e quindi ho detto adesso faccio un bel video veloce veloce e lo mando live a tutti i miei followers su Twitter. L'articolo è qui. Prima di tutto, attenzione, niente fod, però questa è una cosa a cui bisogna prestare tantissima attenzione perché dagli Stati Uniti arriva un messaggio molto forte dall'amministrazione Biden. Fatemi aumentare un pochettino la dimensione del carattere qui, così si vede più grande. Perfetto, è un articolo in inglese ma ve lo traduco al volo. Praticamente un emendamento a uno dei bill, a una delle leggi che l'amministrazione Biden sta lavorando potrebbe impattare tantissimo, potrebbe fare un grosso impatto sull'industria cripto che in particolare colpirebbe la proof of stake. Vi ricordo che i proof of stake in questo momento sono già consolidati, ci sono Cardano, Polkadot, Tezos poi ce ne sono altre più piccole e ovviamente Ethereum che al momento è ancora proof of work che ci si augura l'anno prossimo riesco a completare la sua migrazione e tu ha proof of stake che ancora in questo momento è proof of work. Allora, cosa succede in breve? C'è un bill che sta per passare a cui, che regola praticamente la tassazione dei nodi validatori per entrambi le tecnologie proof of work e proof of stake però poiché dal punto di vista pratico con proof of work bitcoin il nodo validatore guadagna, minta, mina i blocchi e i bitcoin che sono stati minati restano nel proprio wallet nel caso di proof of stake come funziona è che il nodo validatore riceve i reward che poi automaticamente distribuisce ai delegatori quindi c'è questo passaggio di denaro che deve essere, che l'amministrazione Biden praticamente vuole regolare il voto finale era previsto per martedì però ci sono stati dei ritardi verrà fatto sabato quindi in teoria domani non siamo sicuri su questa cosa qua tant'è vero che persone, lo vedremo dopo, c'è un paio di personaggi grandi nell'industria a cripto si è già mobilitata comunque che cos'è successo? c'era già... l'amministrazione Biden praticamente sta supportando un amendamento a una delle leggi più grandi che il senato US nei Stati Uniti vorrebbe portare all'interno nel settore cripto questa modifica però esclude temporaneamente dal dover fornire tax reporting obbligazioni di tax reporting praticamente delle carte in cui vengono spiegate cosa viene guadagnato e chi sono le persone che vanno a trarne beneficio però questo esonero non è per tutti i nodi validatori di tutte le tecnologie ma solamente per proof of work quindi fondamentalmente bitcoin mentre per tutte le tecnologie che utilizzano, per tutte le blockchain che utilizzano proof of stake questo amendamento non fa paio significa che mentre all'inizio queste obbligazioni di dover dichiarare le tasse dei nodi validatori e di tutti i delegatori per i proof of stake erano obbligatori per tutti è stato fatto un amendamento che in teoria dovrebbe essere pro cripto ma in realtà va solo a desonerare, va solo a salvare proof of work quindi per proof of stake l'amendamento lo esclude e quindi proof of stake i nod delegators quindi io che sono stake pool operator praticamente se io stessi negli Stati Uniti dovrei andare a trovare la lista dei miei delegators telefonargli uno a uno e senti ma non è che mi mandi la carta d'identità perché io devo andare a dichiarare quanti soldi ti sto dando mentre per il proof of work no l'esito finale di questo amendamento doveva essere fatto giovedì notte ieri però ovviamente non si è concluso è stato portesipato a sabato ovviamente poiché qua dice che siamo già a venerdì c'è veramente poco tempo per mobilitare le masse del settore cripto e cercare di far sentire la propria voce perché il verdetto finale dovrebbe essere dato da sabato e quindi è difficile farsi sentire noi dell'ambiente cripto la cosa che la cosa che ecco il nodo è questo che praticamente se uno è un miner di bitcoin non è considerato un broker perché quello che guadagna resta nelle proprie tasche mentre nel caso di proof of stake lo stake pool operator guadagna genera del revenue quindi degli introiti per sé e poi li ridistribuisce quindi questo passaggio è inteso come brokering e quindi in questo caso qua viene considerato come un un caso in cui secondo l'emendamento è obbligatorio dichiarare gli introiti la cosa che questa cosa qui è stata viene interpretata proprio come un attacco al decentralized finance perché ovviamente non sappiamo che proof of work per la maggior parte sono algoritmi e blockchain che come bitcoin che su cui la defi non è molto sviluppata l'eccezione per il momento è ethereum che in questo momento è l'infrastruttura principe per quanto riguarda la parte di defi però scusate mi ho miscliccato però questo la verità è che tra poche settimane tra pochi mesi poi ethereum sarà anche lui 2.0 e quindi cadranno anche loro in questo in questo problema questo praticamente spingerebbe a tutti gli stake pool operator negli stati uniti a spegnere i propri nodi validatori perché è praticamente infattibile procurarsi e identificare i customers in questi casi sono i delegators c'è gente io ho 100 delegators non so manco chi sono c'è gente negli stati uniti c'ha migliaia di delegators come fanno a produrre questa cosa qua questi diventerebbero tutti quanti fuori legge quindi li spingerebbero a spegnere le proprie operazioni ovviamente questo è un attacco al defi sembra proprio una qua sembra che qualcuno su twitter ha già detto queste sono le banche che si sono messi d'accordo con bidden e vogliono attaccare il defi al defi finance mi sembra un po' un'esagerazione però il risultato sarebbe questo se un attacco mette una roba di questo genere sembra attaccare proprio il settore defi vediamo un po' qua dice esatto qui continua a dire che comunque sembra un attacco proprio al post di cui ethereum farà parte molto presto e poi qui ci sta il controsenso il controsenso perché proof of work come bitcoin noi sappiamo che proprio di recente un sacco di operazioni di proof of work che sono dal punto di vista del environmental friendly poco environmental friendly si va a favorire queste si va a favorire queste cryptocurrency che consumano un sacco di energia elettrica e tecnicamente non sono environmental friendly e poi si va ad attaccare quelle che sono più ottimizzate come per esempio cardano io sono un follower che gira sul raspberry pi praticamente consuma meno di un cellulare per un dono do validatore paragonato a bitcoin che consumano non so quante centinaia di baht l'ora per minare poi qualche volta i blocchi neanche li producono quindi quindi questo e ci sono un sacco di persone come per esempio vediamo un po' più giù secondo me c'era anche una delle persone che si era già movimentata ecco qui Andrzej Norowitz che è un membro di una delle più importanti di venture capital film negli Stati Uniti e dice questo sembra proprio un attacco all'ultimo minuto all'eco infrastruttura DeFi ma sappiamo anche che ieri sera sul tardi Charles Hoskinson si è immobilitato e ha richiesto a tutti quanti i suoi followers di scrivere ai senatori dei diversi stati dove i stackpot operator stanno operando per far sentire la propria voce perché è importante far sentire la propria voce e ribellarsi molto rapidamente perché questo è un attacco molto importante al settore DeFi in particolare Ethereum per il futuro ed altri progetti come Polkadot Cardano e Tezos vi ricordo io sono già grazie per avermi seguito vi ricordo che io sono lo stack pool operator della stack pool easy one non siamo negli Stati Uniti d'America quindi se voi state delegando una stack pool in America venite da me che siamo tutti al sicuro questa mi ricorda la famosa canzone di 99 post o document dammo document che se no poi ci lamentiamo e va bene su questa cosa qua vi ringrazio vi auguro buona giornata restate sintonizzati questa cosa qui perché potrebbe avere dei risentimenti a livello dal punto di vista del mercato ovviamente non financial advice fate voi le vostre decisioni ma mantenete un orecchio e gli occhi aperti per vedere come questa storia andrà a finire grazie mille vi auguro buona giornata arrivederci grazie ciao